Sport ed eleganza, il fascino della vela è quello dei yacht che hanno scritto pagine di storia della marineria internazionale. Dopo due anni torna le vele d'epoca Napoli, manifestazione velica che apre l'estate partenopea organizzata dal 2004 dal Reale Yacht Club Cannottieri Savoia. Da giovedì 23 a domenica 26 giugno l'edizione numero 19 della regata internazionale per le vele classiche che negli anni scorsi ha avuto grandissimo riscontro, soprattutto grazie alla partecipazione di imbarcazioni magiche. Ma ascoltiamo Fabrizio Cattaneo, presidente del Reale Yacht Club Cannottieri Savoia. Questa regata per la prima volta si svolgerà su un percorso inedito, barche d'epoca Napoli-Capri-Capri-Napoli. Ed è una cosa bellissima perché queste barche antiche hanno bisogno di larghi spazi, non devono andare con le natature portanti, non possono perdere tempo a fare dei bordi e quindi questo lungo bordo Napoli-Capri dritto a 180 sarà una cosa fantastica. Le regate quest'anno sono organizzate insieme allo Yacht Club Capri, che per la prima volta in assoluto ospiterà le Signore del Mare. Ai nostri microfoni Michele Fortunato, vicepresidente Yacht Club Capri. La Yacht Club Capri è molto felice di riportare a Capri le barche d'epoca, quindi non solo le barche tecnologiche che normalmente ci sono nelle regate internazionali che noi organizziamo, ma queste Signore del Mare che si sposano perfettamente con le bellezze dell'isola e con la tradizione che l'isola ha anche del passato. Un'esperienza esclusiva arricchita dal fascino di una regata e di un party nell'isola più famosa al mondo. L'evento ai patrocini, tra gli altri, della Marina Militare. Ma ascoltiamo l'ammiraglio Giuseppe Abamonte della Marina Militare Comando Logistico. La Marina è molto impegnata sia per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla tradizione. Il Covid ci ha fermato per un certo periodo di tempo, però vedo che stiamo ripartendo in tutti i sensi. Qui siamo a Napoli, Napoli il turismo ha ripreso in maniera importante con dei livelli superiori a quelli pre-Covid. E noi speriamo che anche questa manifestazione sia adegui, nel senso che il successo, il numero di barche che parteciperanno, il ritorno che ci sarà in termini sia mediatici ma anche in termini di partecipazione sia ai livelli maggiori rispetto a quelli del pre-Covid.